Anche un albergo di lusso, il primo a 5 stelle in città, dentro Palazzo degli Uffici. Il via libera al progetto definitivo è arrivato dal Comune e dal dirigente della Direzione Lavori Pubblici. Si tratterebbe di un hotel tra il terzo e il quarto piano di 50-60 stanze. La struttura alberghiera occuperebbe in tutto 5-6 mila metri quadrati, con tanto di hall reception a piano terra e ascensori per accompagnare gli ospiti nelle stanze. Ma l'hotel extra lusso sarà dotato anche di una sala convegni, che all'occorrenza potrà essere utilizzata dal Comune di Taranto per la promozione delle attività artistiche e culturali. L'ulteriore snodo ora sarà quello dell'approvazione del progetto esecutivo, dopo quello definitivo. I tempi saranno quelli previsti dal passaggio burocratico. Da quel momento in poi i lavori entreranno nel vivo. I tempi previsti sono di 30-36 mesi. Durante i lavori è previsto che gli studenti dell'Iceo Archita restino nell'immobile. Se così non dovesse essere, lo stesso consorzio, titolare dei lavori, si farà carico dei costi di spostamento e locazione. Intanto nell'escorsione sono ripresi i lavori nel cantiere di Palazzo Archita per la messa in sicurezza della struttura. Verrà fatta una verifica su ponteggi già sistemati negli anni scorsi. Insomma, a parte alcuni ultimi dettagli burocratici, la riqualificazione e il recupero della storica incompiuta di Palazzo degli Uffici è finalmente cominciata.